Il 2016 si apre con un segno positivo per quanto riguarda i nuovi contratti di lavoro. Sono infatti 1.270 quelli che le aziende rettine intendono stipulare nei primi tre mesi dell'anno, il 13,4 in più rispetto a quelli dello stesso periodo del 2015, a cui fanno riscontro però 940 uscite previste, fissando così il saldo occupazionale del primo trimestre a più 330 posti di lavoro. Il 58% del totale delle assunzioni, sottolinea il presidente della Camera di Commercio di Arezzo, Andrea Sereni, sarà costituito da personale dipendente. Il resto delle assunzioni è suddiviso tra contratti in somministrazione e contratti di collaborazione o altre modalità di lavoro indipendente. Tra le assunzioni del personale dipendente nel 2016 si stimano 262 contratti a tempo indeterminato, 406 a tempo determinato e 67 contratti di apprendistato. La maggior parte delle assunzioni di personale dipendente, continua Sereni, avrà luogo nel terziario allargato. Positive, sottolinea il segretario generale dell'ente Giuseppe Salvini, le previsioni che si possono estrapolare dal rapporto eccelsior riferito all'andamento occupazionale giovanile. Sale infatti al 45% la quota delle assunzioni che le aziende rivolgono esplicitamente ai giovani sotto i 30 anni. Sembrerebbe trattarsi di un aumento connesso al maggior ricambio della popolazione lavorativa anche per effetto del Jobs Act. Al contrario, le assunzioni rivolte esplicitamente alle donne scendono del 17% dello scorso anno al 10% del primo trimestre 2016. Il 15% delle assunzioni previste, prosegue Salvini, saranno destinate a profili high skill. Il 12% sarà invece rivolta ad impiegati e di 33% a professioni qualificate nell'attività commerciale e nei servizi. Agli operai sono rivolte poi il 34% del totale delle assunzioni e per finire solo il 6% sarà riservata alle professioni non qualificate del quadro economico locale e nazionale.